Nasce una nuova piattaforma completamente digitale per chi vuole acquistare una Hyundai comodamente seduto nel salotto di casa. L'iniziativa, lanciata in Italia dalla casa sudcoreana, prende il nome di Click2Buy, in italiano Compra con un click. Di questa operazione sorprendono due fattori. Il primo, che il quartiere generale di Hyundai Motor Company abbia scelto l'Italia, un paese non proprio all'avanguardia per la digitalizzazione, come apripista del nuovo progetto. Il secondo, che l'implementazione del software sia iniziata ancora prima dell'arrivo dell'uragano Covid-19. Click2Buy è un altro tassello per consentire a tutti gli automobilisti di entrare in contatto con il brand Hyundai in modo semplice e intuitivo con un tablet, uno smartphone, un PC. Parte da qui un percorso organizzato in sei capitoli attraverso il quale il cliente seleziona il veicolo, lo configura, riceve un'offerta personalizzata, esamina il contratto, può fare una richiesta del finanziamento. A questo punto del negoziato telematico, spiega Andrea Crespi, amministratore delegato di Hyundai Italia, il cliente potrà richiedere un test drive del modello selezionato con l'auto perfettamente sanificata. In un momento successivo sceglierà il metodo di pagamento con la possibilità di analizzare una proposta di finanziamento in totale autonomia e quando la trattativa sarà conclusa si passerà alla firma del contratto sempre online. Chi lo desidera potrà scegliere la consegna a domicilio del veicolo acquistato, che ha un costo variabile tra i 200 e i 600 euro secondo la distanza. A chi ama la trattativa faccia a faccia e si chiede quali siano i vantaggi di una scelta online, Safe Drive ricorda che il venditore in internet è costretto a offrire un prezzo più competitivo perché chi si collega può facilmente navigare verso un altro concessionario. Rispetto al commesso dello showroom, inoltre, questo tipo di venditore risponde a molti più contatti e la sua retribuzione è composta da più voci. Quindi Click to Buy non conta solo le vendite online, ma anche i contatti, preziosi se fatti bene, perché possono trasformarsi in acquisti.